Eccoci qui, siamo tornati nello studio di Uno Mattina. Ho il telefono in mano perché quante volte ci arriva l'SMS. Un'SMS e siamo lì quasi pronti a cliccare perché ce lo manda un nostro amico, ce lo stava dicendo anche il nostro ospite. Allora leggo il messaggio che mi è arrivato qualche tempo fa. Guardate, allora, avviso la sua applicazione risulta associata ad un nuovo dispositivo di Lugano. Se non sei tu per bloccarlo devi cliccare qui. Ma io Lugano, tra l'altro, bellissimo, ma non ci sono neanche me stato e non so chi sia. Abbiamo sospeso temporaneamente la sua utenza, si prega di compilare il seguente modulo anagrafico. Per riattivarla andiamo a cliccare qui. Quindi dovremmo cliccare, adesso non clicchiamo, clicchiamo e vediamo poi quello che accade. Attenzione perché qui poi dietro si nasconde, si cela, una truffa. E bisogna stare attenti poi al conto corrente, al Bancomat. Ma come riusciamo noi a evitare però tutte queste truffe? Allora, ce lo facciamo spiegare oggi da Lorenzo Sabotucci, commissario capo della polizia postale. E voglio partire subito da lei. A noi ci arriva questo messaggio. Involontariamente andiamo lì e clicchiamo. Entriamo nel vortice della truffa. Abbiamo sbagliato. Lo sappiamo. Purtroppo è un fenomeno molto diffuso, insidioso. È il cosiddetto smishing, che è una truffa perpetrata attraverso l'invio di messaggi ingannevoli. Sono messaggi totalmente finti, artefatti. Ma fatti bene. Fatti molto bene, proprio per ingannare le persone, gli utenti. E questi messaggi purtroppo ingannano l'utente che cliccando su quel messaggio involontariamente poi attiva l'azione malevola della truffa, che è quella di carpire le credenziali e i dati riservati, molto spesso riferiti alla propria banca, ai propri istituti di credito finanziari. E questo evidentemente poi apre la strada a un possibile danno anche economico per l'utente. Vediamo allora poi che cosa possiamo fare. Intanto, ingegner Giovanni Santella, grazie per essere qui. Lei è a capo della direzione per la tutela del consumatore agico. Ma allora, vorremmo intanto chiedere quali sono le truffe più diffuse e poi in che cosa consistono? Sì, diciamo sono diverse tipologie che si sono evolute nel tempo. La prima che si è diffusa è quella del cosiddetto phishing, che è un termine inglese, in cui il tentativo di truffa veniva diffuso, effettuato tramite l'invio di posta elettronica. Lo scopo è quello che si diceva poc'anzi, di carpire informazioni riservate relative al conto telefonico, la carta di credito. In quel caso un esempio tipico è quello di un invito a cliccare su un link che ci porta su una pagina web di un sito falso, artefatto, dove noi inseriamo le credenziali, password e username, che poi vengono utilizzate per effettuare truffe. Lo smishing è sostanzialmente la stessa tipologia di truffa effettuata tramite sms. Infatti ecco, quindi abbiamo qua le truffe online, quelle più comuni. Abbiamo la falsa email da parte della banca, falso sms dalla banca, falsa telefonata dalla banca, clonazione sim del telefono, finto sms dal corriere. Quindi veramente ce ne sono tante. Tra l'altro c'era, prima la regia ci aveva mandato anche un'altra grafica, dove ci diceva, come dobbiamo difenderci dalle truffe online, in modo anche semplice, vede, controllare il mittente della mail o dell'sms, non cliccare mai sul link, quello non fatelo mai, non condividere mai i propri dati personali, non cambiare le password su richiesta, eliminare il messaggio sospetto senza aprirlo. Queste sono le cose. Però, devo dire che sono studiati talmente bene, sono fatti talmente bene, anche quando poi ci confrontiamo con gli amici, cadiamo poi in queste truffe. Allora, mi voglio collegare con Salvo Noè, psicoterapeuta. Come fanno a elaborare tutto questo? Cioè, c'è proprio uno studio psicologico dietro questo. Poi riescono sempre ad arrivare, cioè ci riescono, perché poi ci sono talmente tante le truffe, le denunce significa che siamo in tanti a cascarci. Eh sì, ci caschiamo perché, innanzitutto, abbiamo bisogno di fiducia, e quindi noi ci vogliamo fidare delle persone. E quindi, in qualche modo, entriamo in questi meccanismi, che sono anche emotivi, perché i truffatori hanno una grande capacità comunicativa, cioè fanno leva sui bisogni di noi essere umani. E quindi il nostro bisogno primario è quello di sentirci importanti, e in qualche modo anche di fare l'affare, di riuscire a fare, attraverso anche la promozione che ci fa il truffatore, quello che può essere, diciamo, un affare. L'altro punto, invece, è stare attenti, perché questi messaggi mancano di qualcosa, quelli che hai fatto vedere tu prima, mancano di riferimenti ben precisi. Proprio l'altro giorno mi è arrivato un messaggio della polizia locale di un luogo, dove mi diceva che dovevo mandare tutti i miei dati perché ero ricercato per un fattore X. Allora io dico, ma io in quel posto non ci sono stato ricercato e poi, senza riferimenti ben precisi, io non sono caduto nella trappola, però purtroppo questo può capitare e quindi bisogna stare molto attenti. Ecco, commissario, in queste situazioni, ad esempio, ci arriva il messaggio dalla polizia, quindi diamo subito i dati, non dobbiamo farlo, ma nel caso in cui dovesse accadere, cosa dobbiamo fare? Nel caso in cui, appunto, può capitare, per disattenzione, una scarsa prudenza, possono essere comunicati i dati sensibili, la cosa fondamentale da fare è denunciare alla polizia postale l'accaduto. Molte campagne, anche diffuse, massive, che si sono osservate negli ultimi mesi, sono state debellate, in qualche modo, perseguiti attraverso le segnalazioni che ci arrivano anche attraverso il commissariato di PS Online, che è quella piattaforma accessibile a tutti della polizia postale, attraverso cui si possono fare delle segnalazioni. Attraverso quelle segnalazioni poi vengono avviate delle vere attività di indagine per il contrasto a questi fenomeni. Ecco, ma sotto la pandemia, addirittura, poi sono aumentate. Come mai? Perché la gente era più a casa? Proprio perché, come stava dicendo Salvo Noè, il fatto che abbiamo bisogno di aver fiducia e quindi crediamo anche a questo? Sì, effettivamente le statistiche ci dicono che il fenomeno è aumentato considerablemente. sicuramente la maggiore propensione a essere consumatori online indotta dalla pandemia ha influito su questo, quindi sulla percentuale di vittime. A ciò si aggiunga il fatto che sono aumentate le modalità e le tecnologie tramite cui vengono effettuati questi tentativi di truffa. Non ultimo le stesse piattaforme, i social media, che diventano anche queste un veicolo molto diffuso. Allora, però spesso ci vergogniamo quando sbagliamo e soprattutto sono anche gli anziani, quindi si chiudono ancora di più in se stessi e non vanno a denunciare, cosa che invece dovrebbero farla, ci dovremmo far aiutare. Salvo Noè, torno da lei. Perché ci vergogniamo? Cosa accade, soprattutto poi, nelle persone di una certa età? Perché si ha paura, innanzitutto, di essere rimproverati anche dai parenti. Gli anziani hanno questa paura, perché magari i parenti ti dicono come, sei cascato in questa cosa? E così via. Quindi si evita. Poi c'è un'altra componente importante, l'impunità. Anche questo, io ho sentito molte persone che mi dicono tanto, dottore, è inutile che denunci, perché alla fine tanti truffatori riescono sempre a farla franca. Ecco, questo è il messaggio da togliere. No, i truffatori devono essere puniti, quindi dobbiamo garantire questo qui. Anche perché se no, tu alla truffa ricevi anche il fatto che quello lo rivedi in giro che torna a fare le stesse cose e quindi in qualche modo questo è un po' demotiva alla denuncia. Ma se posso dire una cosa anche legata al perché cadiamo in queste dinamiche. Vedete, il nostro cervello funziona con due leve in maniera, diciamo, generale. Tiacere e dolore. I truffatori sanno benissimo come attivare queste leve. Ti danno una grande promozione, quindi ti fanno attivare un'emozione forte che ti motiva a comprare qualcosa oppure innescano paura. Se non fai questo accade il tuo stacco. Fanno dei ricorsi. E quindi è lì che la leva attiva altra motivazione e quindi bisogna anche in questo caso stare attenti. Grazie, grazie mille. Grazie Salvo Noè. Grazie per i consigli che ci ha dato. Ringraziamo Lorenzo Sabotucci, commissario capo della Polizia Postale. Quindi è facile, basta andare sul sito della Polizia Postale e denunciate. Per qualsiasi cosa comunque approfittate e richiamate che loro sono ben disposti anche a rispondere. Ringraziamo Giovanni Santella, direttore di direzione tutela del consumatore Agicom. Grazie.